Questa sessione di questo pomeriggio sul welfare aziendale è sostenibile e di fondamentale importanza perché se da una parte si pensa al benessere del lavoratore, dall'altro attraverso servizi di welfare sostenibili si rispetta l'ambiente e questa è la vera chiave per un'azienda per soddisfare due bisogni, da una parte i bisogni dei dipendenti e dall'altra l'impatto ambientale.